Ancora attacchi hacker al centro della cronaca locale. La Asluno chiama il superesperto l'avvocato Alfonso Celotto, che gli aquilani hanno avuto modo di conoscere perché è stato capo di gabinetto e non solo di vari ministri, tra i quali Fabrizio Barca. Il manager Ferdinando Romano, con una delibera, ha conferito l'incarico. Celotto dovrà essere una sorta di consulente che di assistenza sia in relazione ai rapporti con le amministrazioni centrali e locali, sia con il garante per la protezione dei dati personali, ma anche in ordine eventuali contenziosi relativi all'attacco. L'avvocato è una figura di rilevo nazionale, dovrà gestire anche dal punto di vista legale le conseguenze della grande violazione di dati sensibili di pazienti e dipendenti. La sua nomina arriva qualche giorno dalla scadenza limite, entro la quale la Asl, come imposto dal garante della privacy, deve comunicare la violazione ai singoli interessati. Ma non è solo la Asl nel mirino. Nei giorni scorsi si è consumato un attacco hacker, arranca i danni della Gran Sasso Acqua, con gli esperti che stanno effettuando la bonifica, ma per fortuna non ci sono danni. Per noi non c'è stato nessun furto di dati. I nostri informatici si sono accorti alle 7 di mattina che nel corso della notte c'è stato questo ingresso furtivo da parte di questi hacker. La fortuna ha voluto che i terminali non fossero ancora aperti. Dopodiché i dati più importanti, i dati sensibili, sono comunque custoditi in un cloud esterno che è controllato da una società, Engineering, che sta in questi giorni facendo tre operazioni di bonifica e di verifica di eventuale hackeraggio di altri dati. Per quanto riguarda invece il sistema di monitoraggio delle acque, cioè il campionamento e le analisi, anche in questo caso sono custoditi in server di società esterne controllate. Come da normativa del GDPR abbiamo mandato una notifica al garante della privacy per denunziare quanto è accaduto. Credo che nella giornata di giovedì riusciremo ad essere già operativi e a pieno regime.